Una ricerca di buonsenso che manca. Contatti con il Sindaco Emiliano ci sono stati? Ma io subito dopo quanto è accaduto, subito dopo l'incontro alla Fondazione, dove io non ero mai stato, peraltro, era la prima volta che mettevo piede in Fondazione, in Via Putignani, quindi appena sono arrivato, dopo questo chiarimento ci siamo lasciati dicendoci, stava anche il Presidente della Regione e lui, vediamo un po' la soluzione. Per la verità devo dire che anche lo stesso Presidente della Regione, in un certo senso, ha detto vedete voi come potete eventualmente risolvere il problema e per impegni istituzionali ci ha lasciato. E io ho rinvitato Michele Emiliano a riflettere in un contesto, diciamo così, più freddo, non a caldo. Ci siamo lasciati dicendo che avrebbe rivisto. Io, forte di questa disponibilità, poiché non dispero mai in una sensibilità verso le istituzioni, verso la stessa Fondazione, mi sono permesso giovedì stesso, la sera, di scrivere una lettera personale a Michele Emiliano, al Presidente della Fondazione, in parte rifacendo la storia e poi dandogli le motivazioni della scelta di Altieri. Non sarei tenuto a dirlo o a farlo, l'ho fatto proprio come ulteriore prova di disponibilità. Io sono pronto sempre a un confronto pubblico su questo argomento, con il Presidente Vendola, con il Sindaco Emiliano, con tutti e due insieme contro di me, schiacciato tra loro due, non ci sono problemi. Detto questo, ma la provincia di Bari, io, Presidente della provincia di Bari, sono venuto a sindacare le vostre nomine? Ho detto, no questa nomina non mi piace, ho avuto il massimo rispetto dell'istituzione, delle scelte che l'istituzione fa. Questa è democrazia, questa è etica politica, secondo me. Ho sentito dire poi, ho letto sui giornali, il giorno successivo, che la CGL del Petruzzelli, ancora dove nasce il Petruzzelli? Già sta la CGL. La CGL del Petruzzelli avrebbe detto che è incompatibile Altieri come incompatibile Lagodelli, perché farebbero gli interessi della provincia e della regione nell'ambito della fondazione, in quanto sono un assessore e l'altro vicepresidente assessore. È il Sindaco di Bari, non è il capo dell'amministrazione comunale di Bari, di Bari. Ma per statuto quello sì, quello sì per statuto. E rivediamo lo statuto, lo rimoduliamo. Siamo già alla prima parte di questa rubrica, ho detto che si abbia stata una puntata calda perché avevamo tanti argomenti di cui discutere. Adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, poi abbiamo tanti altri argomenti da affrontare che probabilmente riguardano più i cittadini. A tra poco. Eccoci ancora qui in diretta ai nostri studi con la nostra rubrica Dillo Aschitulli. Vi ricordo il nostro indirizzo mail al quale potete scriverci dilloaschitulli-telebari.it, poi nella prossima puntata come sempre facciamo leggeremo le vostre mail. Veniamo invece ad altri argomenti di cui abbiamo discusso già nella puntata precedente. Parliamo dell'istituto alberghiero di Castellana, che è un istituto, una costruzione, meglio un'opera che rischia di diventare una delle opere infinite e incompiute perché è da tanti anni che si parla di questo istituto, anche molto importante perché potrebbe essere un volano fondamentale per il turismo, visto che la Puglia ormai gode di ottima, è un settore quello turistico che gode di ottima salute nella nostra regione, eppure da anni non si riesce a completare quest'opera, anzi a realizzare questo istituto alberghiero. C'è stato un incontro con l'impresa? Esattamente, il giorno successivo è venuta l'impresa rappresentata da un ingegnere, io ho chiamato sia l'assessore all'edilizia scolastica, sia il dirigente all'edilizia scolastica e abbiamo esaminato tutta la documentazione a posto, tutto in regola, tutti pronti, siamo noi pronti a partire, ma non possiamo partire perché mancano i soldi, mancano i requisiti fondamentali, cioè il progetto approvato, tutto fatto, mancano le disponibilità, le risorse finanziarie, risorse finanziarie che sono legate comunque al patto di stabilità, per cui pur avendo l'incassa non li possiamo spendere, risorse finanziarie che ci devono prevenire anche dalla regione. Quindi che cosa succede a questo progetto? Se non abbiamo disponibilità di risorse economiche e finanziarie non possiamo partire. E questo naturalmente è un grave danno, è un grave danno perché non soltanto l'impresa è ferma, i lavoratori dell'impresa vengono messi in cassa integrazione o licenziati, si perde il lavoro e non è che non lavora soltanto l'impresa, non lavora l'impresa, non lavora l'ebanista, non lavora il fab, non lavora l'efficista, tutto ciò che è l'indotto poi, non lavorano i fornitori, tutto ciò che è l'indotto non lavora e si blocca, con un danno forte alla società, alla comunità, ma insomma ci rendiamo conto, oltre che le chiacchi, ci rendiamo conto che qua i poveri stanno aumentando, la fascia dei disoccupati sta crescendo, che i giovani non trovano lavoro e io non sono in grado di poter soddisfare questo e stiamo facendo beghe e begucce. Però Presidente c'è una responsabilità nel momento in cui è un progetto che va avanti da tanti anni e non è mai stato finanziato? Certamente c'è una responsabilità, certamente non lo potete addebitare al sottoscritto che ha preso e sta facendo ora, che oggi si è seduto in provincia e che sta esaminando tutto ciò che sta alla luce della documentazione che mi viene prodotto o delle richieste che di volta in volta mi vengono fatte. Io apprendo di volta in volta una situazione che certamente è stata frenata negli anni trascorsi e oggi abbiamo poi questo vincolo determinato dal patto di stabilità, cioè dal fatto che noi non possiamo spendere e non potendo spendere non possiamo acquisire determinati servizi con quanto ovviamente ne consegui. C'è tempo per rimediare Presidente? Il prossimo anno potrà essere finanziata l'opera? Il prossimo anno non avremo all'inizio dell'anno il patto di stabilità che sentiremo durante l'anno, quindi io mi auguro proprio di sì, però qui dobbiamo sbloccare perché altrimenti ogni anno ci sarà questa situazione qua, almeno durante l'ultimo semestre dell'anno. Noi invece dobbiamo garantire una continuità di lavoro per tutto l'anno. Parliamo di emergenza di rifiuti, un'altra questione che ha animato il dibattito scaldato, non soltanto il dibattito politico ma anche più meramente tecnico, perché in realtà di emergenza di rifiuti se non si può parlare proprio nell'immediato, comunque è il rischio che nei prossimi mesi davvero Bari si possa trasformare in una seconda Napoli. Ricordiamo che è stata chiusa la discarica di Conversano con Trata Martucci, in sostituzione dovrebbe entrare in funzione l'impianto Cogemo, però la questione che ci siamo posti è che manca l'ultimo tassello per chiudere il ciclo dei rifiuti, parliamo anche l'altra volta dei termovalorizzatori. C'è qualche novità Presidente? No, c'è la novità che il Consiglio di Stato praticamente ha accolto il ricorso della regione per cui ha dato il via libera a che i rifiuti possano continuare ad essere collocati a Conversano, perso la discarica Martucci, sino credo più o meno alla fine del mese. Per 30 giorni credo fosse la prorogazione. Sì, però voglio dire, questi sono dei panicelli caldi, qua chi è che ne soffre, ritorniamo, è la popolazione e i cittadini che rischiano giorno per giorno, e accadrà purtroppo, di doversi tenere i rifiuti in casa, perché non ci sarà il luogo dove smaltirli, manca una progettazione completa, globale, complessiva. I rifiuti dove li andiamo a mettere? È semplice, ritorniamo sull'argomento, i rifiuti di casa mia dove devono essere smaltiti? Intanto dobbiamo cercare davvero di acculturarci nel senso di fare in ogni casa la raccolta differenziata, questo per favorire poi lo smaltimento dei rifiuti. E questo è già un forte impegno, che non è stato assolto, non è stato assolto perché siamo a livelli bassissimi.